Mariano Malfitane è ideatore della Super Maratona dell'Etna, dopo tre anni torna a questa grande gara, innanzitutto che tipo di gara è? La Maratona dell'Etna è nata per una scommessa, per un'idea che avevamo già da tanto tempo, quella di creare un record della scalata del vulcano attivo più alto d'Europa e quindi partendo dal mare arrivare a quota 3000 e la cosa doveva finire lì. Infatti nel 2003 con due ragazzi del Friuli siamo arrivati giù con quella di creare proprio questo record che poi rimaneva scritto negli annali e basta, ma l'entusiasmo che abbiamo creato lì quell'anno solamente con tre partecipanti ha fatto sì che poi è venuta fuori la gara, la gara vera e propria e quindi con un'organizzazione, con tanto di ufficio gare, con atleti eccetera, quindi da lì siamo partiti e poi fino al 2008 abbiamo fatto le prime cinque edizioni. Una gara quindi importante e poi c'è stato un attimo di break perché gli organizzatori hanno dovuto pensare a qualcos'altro. Noi organizzatori siamo a 1550 chilometri distanti dall'Etna, avevamo preso già degli impegni qui a Tervisio per l'organizzazione di una gara importante, un campionato italiano di corso in montagna, quindi nell'anno 2009 abbiamo fatto questa piccola pausa, poi due anni speravamo che qualcuno prendesse in mano la cosa, questo non è successo e nel 2012 abbiamo deciso di riprenderli ed eccoci qua. Tante sono state le richieste, tante le attese di tornare a fare questa gara, la cosa fondamentale è che si parte dal mare e si arriva all'Etna, una sensazione, un'emozione incredibile per chiunque partecipi. Beh è vero, chiaro bisogna chiedere a chi effettivamente la corsa come si dice, però noi anche organizzatori vedere questa gente che corre con grande entusiasmo, il coinvolgimento dei tre comuni attraversati, i bambini in piazza, voglio dire anche tutti i collaboratori, gli enti pubblici prima di tutto, compresa il corpo forestale regionale, poi naturalmente i comuni, ma tutte le associazioni, il CAI, i sci club, gli alpini in congedo, un'altra bella realtà che anche pur essendo di Sicilia c'è, quindi tutti quanti, tutti amici e tutti i nostri amici, ma tutta gente che immediatamente aveva dato prima la disponibilità, ma che adesso noi ci siamo e che tutti immediatamente hanno detto di sì e stiamo ripartendo, credo, alla grande. Una gara che conquista tutti, sia dall'atleta meno provetto al campione, tantissimi nomi importanti, Trincheri, Calcaterra, abbiamo avuto anche atleti femminili come la Monica Casiraghi, insomma una gara che attira veramente tantissimo. Beh, da organizzatori e diciamo così un po' da addetti ai lavori perché conosciamo un po' l'ambiente, noi avremo un buon 50% della squadra nazionale che ha fatto l'ultimo campionato del mondo da 100 km, è una cosa bellissima, importantissima e quindi questi grandi campioni come Boffo, come la Carlin, la Casiraghi stesso, non per ultimo Giorgio Calcaterra che ci ha confermato la sua volontà a venire sull'Etna non più tardi di un paio di giorni fa, per noi è un grande orgoglio, ma vorrei dire che anche per tanti cosiddetti bisonti, quindi quelli che vengono lì solo per farsi la passeggiata ma per godersi il panorama, siamo stati a Roma, alla Maratona di Roma per fare promozione dove in tre giorni abbiamo visto, non esagero, 50.000 persone e tutti erano interessantissimi a questa bellissima idea, verrà tanta gente, tanta gente anche che non sono dei grossi atleti che però tutti possono farla perché è un tempo limite di otto ore dove è facilissimo arrivare in cima pur camminando, non essendo grossi atleti, però abbiamo la possibilità di fare anche un primo tratto, quindi facendo una gara non competitiva di 13 chilometri e poi un traguardo, cosiddetto uno sbarramento a 33esimo chilometro dove lì verrà anche stilata una classifica per quelli che non ce la fanno arrivare in cima, quindi abbiamo messo in campo tutte le nostre capacità, l'esperienza di tantissimi anni di lavoro nelle organizzazioni da parte della Mariatosi speriamo di far bene. Grazie per la visione!